Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPLI fare attenzione per personale su strada segnalato tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La liabilità cittadina a Firenze in via di San Leonardo chiuso il tratto tra via di Belvedere e via Schiapparelli per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!